Finalmente siamo al Blue Note, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo portato un attrezzatura piccola 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 anche per fare poco rumore perché poi lo spazio è quello che è. Quindi mini pedaliera assemblata a casa con due drive, un tremolo, l'inseparabile delay, poi il volume e l'ampli d'angelo che fa da pasta sonora base nel suono e poi una 335 con cui farò praticamente tutto lo spettacolo, una fat neck del 2008 e poi una chitarra classica con cui invece affronteremo la parte acustica centrale in cui suoniamo tutti unplugged. Ovviamente la scelta dell'attrezzatura è legata davvero al posto e al tipo di situazione, abbiamo deciso di riadattare un po' i brani e di suonare un po' più free, quindi senza computer, senza sequenze, non avremo neanche gli ascolti in cuffia ma sarà live, un po' come diceva, ai vecchi tempi che rimpiangono tutti, o meglio rimpiangiamo tutti i vecchi tempi delle spie. Di solito invece in turno è una pedaglia grossa con mille pedali, mille suoni, sette, otto pedagli a seconda della situazione e le che fortunatamente oggi non suonerò, ovviamente stiamo facendo il soundcheck per cui ci sono un po' di rumori vari e qua se volete vi faccio sentire anche la pasta base dei telefoni, dei due o tre suoni che utilizzo. Che dite? Grazie a tutti Grazie a tutti